va ora in onda al culto evangelico valdese la predicazione di oggi è curata dalla pastora elisabeth le manna vi saluto da angogna dal tempio di pradel torno vogliamo condividere con voi una parola di vita la parola del nostro signore che ci sostiene ogni momento della nostra vita vogliamo raccoglierci alla sua presenza il nostro principio il nostro aiuto la nostra speranza sono nel nome di dio che ha fatto i cieli la terra e che ci salva in gesù cristo amen ascoltiamo alcuni versetti del salmo 103 benedici anima mia il signore e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome benedici anima mia il signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe come i cieli sono alti al di sopra della terra così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono come è lontano l'oriente dall'occidente così a egli è allontanato da noi le nostre colpe come un padre è pietoso verso i suoi figli così è pietoso il signore verso quelli che lo temono benedite il signore voi tutte opere sue in tutti i luoghi del suo dominio anima mia benedici il signore preghiamo signore oggi ci troviamo qui in un luogo a noi caro ti rivolgiamo il nostro saluto e ti chiediamo di aiutarci ad aprire i nostri cuori fa che i nostri pensieri siano ispirati dalla tua parola e che noi possiamo benedirti ogni giorno che cosa significa benedire l'origine della parola ci aiuta non vuol forse dire parlare bene di qualcuno o di qualcosa quante volte noi nella nostra vita di tutti i giorni dimentichiamo tutte le cose belle e utili di cui possiamo usufruire che rendono la nostra quotidianità confortevole e apprezzabile quante volte parliamo male con i nostri cari o più in generale di qualcuno che ci ha irritati quante volte ci dimentichiamo di te che ci sei vicino e pensiamo invece solo a ciò che ci manca che vorremmo che non siamo riusciti a fare aiutaci signore a godere delle piccole cose di ciò che siamo e abbiamo ora grazie a te alla tua bontà e alla tua misericordia il salmo ci ricorda che oriente e occidente sono lontani e questo è vero ancora oggi forse persino più di un tempo ci rammenta anche che dio allo stesso modo allontana le nostre colpe aiutaci o dio ogni giorno affinché oriente e occidente possano avvicinarsi e convivere serenamente come in ogni essere umano convivono inevitabilmente bene e male colpa e merito aiutaci a lottare per il bene e per la pace benedicendo il tuo nome e il tuo operato in famiglia nelle comunità nel mondo nella consapevolezza che non si può avere tutto e subito ma che ognuno nel suo piccolo può contribuire amén alleluia 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 rodate il signore alleluia alleluia rodate il signore alleluia 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 l'odate il signore alleluia alleluia l'odate il signore alleluia alleluia l'odate il signore Alleluia, alleluia, l'odate il Signore. 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 Leggiamo dalla lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo, al capitolo 1, versetti da 14 a 17. Io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto, il Giusto per fede vivrà. Cari sorelle e cari fratelli, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Queste parole le ho sentite la prima volta il giorno della mia confermazione. Sono il versetto che mi è stato dato per la confermazione, ma anche per tutta la mia vita. Solo dopo ho scoperto che questo testo di Paolo è alla base della riforma protestante. Sono parole che hanno fatto storia, che hanno cambiato il mondo, ma sono anche le mie. E questa è la cosa bella della parola di Dio. Non è solo per le cose e le persone importanti, ma sono anche per noi. Per noi e le nostre piccole vite, perché il Signore ci tiene a ognuno di noi. Il pastore che aveva scelto questo versetto per la mia confermazione era mio padre. E questo versetto è diventato l'eredità più importante che lui mi ha dato. Perché sono parole che mi hanno dato sicurezza, che mi hanno sostenuto nella mia vita. Posso dire che sono la roccia nella tempesta della mia vita. Non mi vergogno del Vangelo, scrive l'Apostolo Paolo. Io invece mi sono ogni tanto vergognata. Vergognata della mia fede, non al punto di rinegarla. Ma qualche volta non ho parlato della mia fede. Quando sarebbe stato opportuno? Non ho condiviso la speranza che ho io. E mi sono chiesto, ma perché? Perché l'ho fatto? E mi sono resa conto che non era perché io mi vergognavo del Vangelo, ma era perché io mi vergognavo di me stessa. Che io mi vergognavo che io non ero così perfetta, non ero così brava come avrei voluto essere. Mi vergognavo che io avevo bisogno di aiuto, che io avevo bisogno di sostegno, che io avevo bisogno del Signore nella mia vita. Quando i miei figli erano piccoli, qualche volta io ho guardato con loro la televisione e mi ha colpito una cosa. Quasi tutti i programmi televisivi avevano lo stesso messaggio. Era un messaggio che voleva incoraggiare i bambini e diceva più o meno questo, che se tu credi fermamente in te stesso o in te stessa, tu puoi raggiungere tutto quello che vuoi nella tua vita. E io mi sono sempre chiesto se quello era veramente vero. Mi sono sempre chiesto se questo bastava veramente, credere in se stessi. Non è che la vita è più complicata di questo. E infatti oggi io vedo tanti giovani che sono insicuri. Vedo dei giovani, delle giovani che lottano contro il senso di fallimento perché non hanno raggiunto tutto quello che lo volevano raggiungere. Non mi vergogno del Vangelo, scrive l'Apostolo Paolo. Non mi vergogno. E io ho imparato a non vergognarmi. Non mi vergogno di non essere così capace come avrei voluto, come vorrei essere. Non mi vergogno di non essere perfetta. Non mi vergogno che qualche volta anche io fallisco. Perché non è, non mi vergogno, perché non è così importante credere in me stessa. Invece è importante credere in Lui. Nei momenti di smarimento io mi ricordo del dono che mio padre ha fatto a me dandomi quel versetto della lettera di Paolo ai Romani perché mi ricorda che quello che conta veramente è credere in Lui. Perché la giustizia, o potremmo anche dire con parole più moderne l'accettazione, la perfezione mi viene regalata. Mi viene regalata da Lui. Ma attenzione. Il Signore non ci dice semplicemente non ti preoccupare, vai bene lo stesso così come sei. Il Signore non fa finta che non ci siano errori, che non ci siano colpe, che non ci siano incapacità e mancanze. Il Signore non copre semplicemente il nostro marciume perché non aiuterebbe a nessuno. Invece Lui lo prende su di sé, ci dice dai tutto quello a me, io ti riscatto, ti faccio giusto, giusta davanti a me. Quando Martino Lutero scoprì questa giustizia di Dio, lui disse che era per lui come se le porte del paradiso del cielo si aprissero. Io quando mi ricordo di questo versetto di Paolo, di questi versetti di Paolo, mi sento più leggera. Ritrovo in quel momento sicurezza in un mondo insicuro. Non capisco sempre tutto perché il mondo è troppo complicato e so di sbagliare, so di non essere sempre perfetta. Io accumulo mancanze, incomprensioni, colpe e peccati. Ma so anche che Lui, che il Signore, ci tiene a me. Ha preso tutto quello su di sé e io posso andare avanti con la testa alzata, con fiducia, senza nascondermi, senza vergognarmi. Non sarò persa in questo mondo perché credo in Lui. Amen. la testa alzata, no son. Sousa che la testa alzata, nascondermi, è gore a tutti. Il Signore, che l'amore, che la testa alzata, è bene, c'è合ra a più che la testa alzata, che le dhe intuosi IKEA, Grazie a tutti. 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 Ti preghiamo per la giustizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti preghiamo per i giovani che si sentono smariti o faliti. Ti preghiamo che possano trovare sicurezza in te e un senso per la loro vita. Ti preghiamo per gli anziani che si sentono inutili. Per te ogni persona è preziosa. Tu non guardi i nostri successi o i nostri insuccessi, ma ci guardi solo e solamente attraverso il tuo amore. Signore, ti preghiamo per chi è malato e per chi ha perso una persona cara. Ti chiediamo per loro guarigione e consolazione. Signore, questo te lo chiediamo nel nome di Gesù, nostro fratello e nostro Salvatore. Amo. 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 Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Elisabeth Le Manna.